ciao a tutti e bentornati ancora una volta su indie game play ita oggi siamo su black desert online ho voluto farci un video perché se vi ricordate a maggio io avevo fatto un video confronto l'arena l'avevo chiamata tra archage archage come volete pronunciarlo e black desert online poi tra i due scelsi archage su cui trovai una fantastica gilda veramente delle bellissime persone su cui mi sono divertito per qualche mese avevo posto però meno attenzione diciamo su black desert online mentre su archage ci avevo fatto una serie di tutorial appunto per portare per la volontà di portare in italiano finalmente qualche tutorial abbastanza completo su come fare le varie cose furono diversi video pubblicato ovviamente in giorni alterni rispetto a quelli dei video canonici ora da qualche tempo mi sono buttato un pochino su black desert online e voglio un attimino parlarvene perché quando io sono particolarmente ispirato come in questo caso mi butto lì e registro il video allora ammetto che vi avevo dato già delle info in quel video ve le vado a riraccontare purtroppo su questo gioco c'è quella sensazione che io definisco sovracchiante che si trova su pochi giochi della verità in cui vi trovate mille cose davanti non ci capite niente tutta questa chat che avanza qui la chat che prosegue qua in alto all'inizio avete una serie di notifiche che non capirete che cosa sono vedete le varie persone cosa vendono cosa riescono a incantare cosa falliscono insomma sono cose che levate subito e vi farò vedere tra l'altro in questo gioco non ci sono purtroppo delle guide online su youtube recenti voglio dire ci sono delle ottime guide di warfare o di mmo.it però sono più vecchie da un anno fino a quattro anni fa c'è solo ho trovato solo un video in italiano di un utente fatto quest'anno però onestamente il video è utile fino a un certo punto perché poi ogni due frase una bestemmia e a me ha dato un pochino fastidio ma non tanto per in sé ma perché semplicemente se non c'è il volo di spiegare non spiegare insomma allora sovracchiante perché perché all'inizio va bene il video dell'arena di maggio avete visto una grafica molto slavata perché al momento il gioco ha delle impostazioni grafiche un po particolari perché ha la possibilità di essere messo in remaster o in ultra in ultra effettistica elevatissima tutto per effetto un po seppia stessa cosa le master è molto più bella da vedere molto più dettagliata ma è difficile mettere diciamo a posto i colori renderlo bello vibrante come colore quindi ho scelto questa però onestamente sto ancora un pochino smanettando con l'impostazione perché ci sono quelle cose di blu di bloom insomma che che non mi piacciono particolarmente l'altra cosa che vi consiglio di fare poi se volete un pochino schiarirvi la vita è qua in general setting gli alert disattivatele tutti io ho lasciato attivo qualcosina e poi riavviate il gioco in modo che avete un campo più libero così come anche qui vedete su edit ui potete andare a cliccare custom hp bar in modo che vi mette la barra della vita sotto il vostro personaggio e non qua in alto che è difficile da vedere e poi qua potete andare a muovere tutte le varie finestre un po come fate anche su world of worldcraft però vi serve se non ero una modda per poterlo fare definivo questo gioco sovracchiante perché perché ci sono mille cose da fare il gioco non vi preclude nulla sin dall'inizio io adesso vabbè gioco coreano quindi vuoi non fare una donna sono molto molto belli personaggi di uomini e donne sono fatti veramente bene ci sono una maia di classi alcune classi sono vincolati a uomo o donna mentre altre ci sono ad esempio la witch o il warlock insomma se vabbè c'è la controparte il mage e la il mago la maga insomma alcuni altre invece no lasciassin l'assassino solo uomo poi adesso uscito il nova la nova uscito inizio dicembre una nuova classe con scudo e mazza ferrata ricorda un po anche dal souls come modo di di combattimento sovracchiante dicevo perché il gioco vi permette di fare tutto sin da subito ma soprattutto vi spiega poco nel senso che voi potete evocare il vostro spiritello ma in realtà lui vi dà le quest seguite le quest potete dire la verità giocarlo anche senza leggervi le quest perché tutto indicato potete andare vedete questa quest dice uccidi i gruppi di quei degli imp e vi porta esattamente dove ci sono imp premete t e vi porta a mano questo lo avete già visto una parte interessante che vuole spiegare del gioco è che il gioco è pieno di mille cose da ricevere avete un sacco di notifiche di mail di premi che vincete in base a quello che fate in gioco avete che molto nascosto nelle mille funzioni qua potete personalizzare il menu come volete io c'è anche questo giochino qui dove potete attirare fino a tre volte al giorno i dadi a meno che non andiate sulle carte in questo caso avete delle carte da giocare che vi consentono di ritirare ulteriori dadi comunque avete tra i tiri al giorno uno ogni mezz'ora quindi ve lo giocate in un'ora e mezza in cui vedete che scusate continuo sbagliare in cui potete tirare i dadi e man mano andate a tirare dei dadi se fate un numero uguale sui due dadi andate a vi andate a tirare di nuovo in questo caso ho preso un oggetto quando è arrivata alla fine vincete insomma finite lo schema e ci sono i premi dicevo questa è la mappa la mappa è come potete vedere enorme assolutamente enorme perché poi va avanti e poi c'è appunto deriva dal il nome black desert è un deserto dove non vi vedrete sulla mappa e quindi dovete andare a orientarvi in base alla vostra direzione e dovete avere acqua dovete avere un cammello non un cavallo insomma qua poi ci sono mille cose come le varie zone in base al livellaggio dove andare a farmare ecco farming è la parola d'ordine di questo gioco perché voi per livellare avete qua in alto l'esperienza la vostra esperienza avete gli skill point che è un altro tipo di esperienza le energy point che sono un'altra esperienza e i contribution point altra esperienza ancora facendo le queste andate ad aumentarle ognuno ha la sua utilità ad esempio la gli skill points col tasto k potete andare a migliorare o aumentare le vostre abilità in combattimento i gli energy point servono per tante cose assumere i lavoratori potete spenderli per conoscere meglio le persone e tante altre azioni che potete prendere anche di interazione con vari oggetti del mondo spendendo punti di energia l'energia si rigenera un punto all'ora per quanto riguarda il vostro personaggio offline un punto ogni tre minuti online quindi questo caso mi mancano 17 quindi moltiplicate 17 per 3 e ottenete i minuti che vi servono per recuperarli tutti i contribution points invece si accumulano in base alle missioni che fate l'esperienza che appunto accumulate qui ed è una cosa sono una cosa veramente interessante perché vi consentono di fare praticamente tutto quello che riguarda la zona di housing di produzione in sintesi vi avevo già fatto vedere a me piace molto questa casa questa casa è la edel 14 vado in idel clicco su idel e vedete che la casa è questa 14 vedete la planimetria vedete che potete andare ad acquistarla al costo di 3 contribution point li spendete nel momento in cui non volete più la casa la restituite vi vengono restituiti 3 punti contribution e li ottenete li spendete altrove ovviamente per ogni operazione in questo tipo dove io acquisto acquisto lavoratori sono acquisisco nuove zone spendo anche punti di energia che riaccumulo aspettando minuti residenza ci potete mettere i vostri tavoli da lavoro e le altre cose potete farlo fare ai lavoratori cosa importante esplorando la mappa salendo di livello andate siete fatti abbastanza per arrivare in altre zone in altre zone vedete in questo caso si parte da qui questo lo saprete se avete già anche solo guardato qualcosina nella wiki del gioco c'è ad esempio questa zona qui io sono andato qui ho speso un punto di contribution o uno o due adesso non ricordo e ho esomi a questa zona a questo punto questa zona mi diceva ok qua i due case le puoi prendere ci puoi fare una di queste cose uno storage una residenza insomma quello che vuoi oppure qui c'è qui per fare delle specialità qua un campo io ho preso il campo speso un altro punto contribution più altri dieci e di energia e ho preso questo terreno di patate poi sono andato vabbè in città o la città poi ci farò una casa anche lì e poi ho preso anche questa la battaglia farm in cui a quel punto si è sbloccato la produzione di carne di pollo o la produzione patate ho preso anche qui con un altro punto e 10 di energia un contribution point e 10 di energia ho preso anche questo campo dopo di che sono andato laboratori e dai lavoratori qua c'è un simbolino del piccone insomma dovrebbe essere quello dove un tizio mi vende i lavoratori ho preso due lavoratori che sono andati in automatico a coltivare patate qui e qui a quel punto lo producono patate in base alle loro caratteristiche qua bisognerà approfondire ed eventualmente se siete interessati potrò farci una live o un video insomma dove risponderò le domande a velia vengono depositate le patate che vengono coltivate quindi ogni città anche può essere velia può essere a idel ognuna ha un inventario suo quindi accumulato la roba che producete che positate voi stessi qui poi potete ok pagare trasportare o voi stessi o far trasportare un servizio di npc le merci da una città all'altra perché perché io faccio la le patate perché servono per fare la birra la birra servirà poi per se andiamo qua a vedere i lavoratori nella piccone lavoratori abbiamo i nostri lavoratori di qui ho un gigante che è molto forte quindi si stanca molto più diciamo raramente 21 su 25 invece il goblin è già metà però è più lento nella produzione mentre invece il goblin è bello veloce ma si stanca subito quando sono stanchi dovete usare la birra quindi la birra io la userò al momento per rivenderla e farci un po di soldi e soprattutto usarla per i lavoratori altra cosa nella soverchiante numero di attività che vi troverete da fare in gioco non sapete a cosa servono gli animaletti le cavalcature come recuperare le cavalcature come minare come fare varie cose ecco minare ad esempio potete farlo fare un lavoratore andando a prendervi questo nodo questo nodo vi da il mining di copper o polvere di fiamma oppure metallo o polvere dell'oscurità quindi dovete andare a prendere un lavoratore lavoratori deve essere collegato se non sbaglio a una città in questo caso dovrebbe arrivare da qui quindi dovremmo andare in città prendere una casa e renderla lodging e quindi vedete dargli un posto per dormire i lavoratori l'acquistate due punti contribution così e quindi scavate oppure andate voi stessi lì a scavare però insomma o anche la coltivazione potete piazzare i campi e coltivare i cavalli i cavalli potete fare prenderli o al mercato o andare all'asta oppure potete andare a prenderli voi stessi io dovrei aver preso una anche se non lo trovo il lazio eccolo qua la capture in rope c'è un minigioco dove potete andare a prendere i cavalli la figata del prendere i cavalli che i cavalli hanno ognuno un'abilità sua loro in pratica delle delle statistiche e quindi potete prendere un bel cavallo un pessimo cavallo insomma potete decidere di addestrarlo e metterlo in vendita ci sono otto tir di cavalli da far livellare più un cavallo ogni tanto mi usciva un messaggio qua in alto di cavalli venduti a 150 180 milioni io al momento ho 400 milioni circa ma ha dovuto al fatto che il gioco mi ha dato dei regali di bentornato insomma mi sono fatto quei soldini libero ecco altra cosa i pet dicevo i pet qui vi danno la possibilità di raccogliere i vari oggetti loot sul campo con un intervallo che vanno dai 10 ai 20 secondi dipende da da pet a pet vedete che qua ho la lista dei pet ora tu e mech i miei due pet i pet li potete tirare fuori in questo caso vedete che hanno la possibilità di dare un punto percentuale in più di esperienza in più hanno la abilità di recuperare il loot in tot secondi adesso io non ricordo dove si veda però hanno una percentuale di ritorno del loot vabbè poi vabbè adesso lo rimetto via perché una volta che più li usate più loro hanno il livello di fame che scende e quando è sceso del tutto non lo potete più utilizzare e quindi dovete andare ad acquistare il cibo economico oppure produrvelo stessa cosa il cavallo il cavallo è molto interessante perché lo mettete nella stalla e lì lo lasciate oppure lo prendete lo portate con voi potete poi prendere sullo shop quindi pagandoli a soldi o pagandoli a all'asta perché all'asta potete trovare anche gli oggetti che la gente ha acquistato soldi veri che non lo sono mai diciamo sono velocizzanti non sono pay to win da quello che ho potuto vedere anche da altri video quindi prendete un flauto e lo potete far arrivare da ogni dove in realtà invece il cavallo in condizioni normali dovete tenerlo sempre vicino a voi se non andare velo a recuperare il cavallo poi anche lui ha bisogno di riposare bisogno di cibo perché nel caso in cui dovesse finire non si muove più insomma dovete fare di benzina tra virgolette non so dov'è il cavallo non so dov'è lo stalliere probabilmente qua davanti però vado alla stable e mi dice dov'è la stable e la stable è di là infatti vedete che seguiamo il gioco è fortemente configurabile non vi piace la questa freccia qui non vi piacciono questi cerchi intorno vedete questi cerchi intorno sono per farvi capire che persone che png avete davanti e che tipo di relazione avete con con loro ecco serve a quello avete vedete la stalla lo shop avete la possibilità di acquistare varie cose però alcune ve le vende solo se avete una certa relazione quindi dovete andare a fare un minigioco che vi farà spendere parecchi punti energia che si rigenerano col tempo come vi dicevo però poi potete acquistare la sella e vale varie io adesso nella stalla ho il mio rent team che ha un'abilità sua cioè sono un botto di abilità posso togliere il cavallo posso venderlo posso cambiargli il nome contare quante volte è morto cambiargli l'aspetto insomma affittarlo addirittura take out ok il cavallo è stato tolto eccolo qui adesso mi sposto perché qua è un po' affollato la cosa bella di questo titolo è che ha veramente un sacco di giocatori ce ne sono in ogni dove e si poi sono anche tutto così sotto l'acqua lucido insomma vabbè scendiamo da cavallo vedete che poi il cavallo si mette in parcheggine automatico potete vedere con f7 più informazioni potete usare degli oggetti sul cavallo potete comunicare col cavallo fargli ripristinare una piccina di di stamina dargli dell'aprire l'inventario del cavallo potete fare veramente un sacco di cose ehm vabbè adesso io vado a vado a no non volevo parlare con lui veramente un casino perché c'è veramente un sacco di gente stable e metto il cavallo check in a distanza è troppo grande cioè addirittura sono andato troppo lontano col cavallo che mi resta comunque indicato in mappa e lo posso mettere via poi vi voglio far vedere appunto un'ultima cosa perché in questo video non si vede praticamente nulla però ecco può risultare per alcuni di voi magari potrà risultare la nota dolente del titolo o per altri dire no però mi piace così com'è ve lo vi dico subito non vi terrò ancora pertanto sulle spine faccio il check in al cavallo che non voglio usarlo perché sono un tirchio ehm voglio andare nella location della missione quindi indico il punto e mi ci ecco immediatamente poi correndo anche ehm una cosa da dire la notte la pioggia è veramente resa bene anche con questo livello di grafica che è grafica ultra ma non la remaster è veramente molto bello il mondo è fatto è fatto bene di questo di cose da fare ce ne sono il crafting è importante c'è la possibilità di anche della pesca del crafting di armi armature la cucina l'alchimia ehm il refining io lo chiamo così il gathering la raccolta delle varie merci si può diventare di vari livelli in base a quanto ci siamo cimentati con il con il vedete produce eh non me lo fa fare qua comunque ci sono un sacco di cose ho anche una skill che mi aumenta una mastery che ho preso veramente la eh quantità di oggetti che si trovano in giro per il mondo sono veramente veramente tantissimo in questo caso vedete ho vinto non so se è un evento devo ancora capire che cos'è tutta sta roba che continua ad arrivarmi ehm mi arrivano soldi mi arrivano oggetti ogni tanto che vado a riscuotare ma penso sia un evento per la fine dell'anno allora quello che voi dovete eh capire è che e in questo gioco si fa tanto farming non inteso come farming di eh urataggi eh grinding si può dire insomma ci sono delle zone in cui voi andate se non volete fare queste e pestate a sangue tutti quelli che incontrate ehm lo fate con la speranza di appunto beh la certezza di fare esperienza e la speranza di trovare qualche oggetto utile perché nel gioco ed è una nota positiva a mio parere tutto o quasi tutto è vendibile all'asta in questo caso adesso io tiro fuori l'arma e faccio quello che tutte le... un'altra cosa di quelle abbastanza spiazzanti per cui dovete prendervi il vostro tempo è che le abilità che voi avete ehm preso dallo skill 3 con gli skill points quelli qua in alto questi qua tutte le abilità che andate a comprarvi qui le potete otascinare nella barra veloce sotto quindi qui e premere 1,2,3 in base ai numeri infatti adesso premiamo 1, premiamo 2 oppure avete la possibilità anche di ehm usare delle scorciatoie da tastiera che ad esempio sono il tasto V quindi la camminata in avanti più F e poi in tasto indietro più il tasto del mouse vedete adesso io premio F più W adesso premio indietro più mouse e mi fa un'altra mossa poi solo F mi fa questa mossa qui li vedete indicate anche qui ehm... ecco nelle zone più concitate insomma avete decine di nemici davanti li dovrete tutti abbattere e secondo me è una cosa innovativa questa come tipo di combattimento rispetto ai classici all'archage dove cliccate i vari tasti e poi rimuovete però continuate con questo combattimento qua si combatte attivamente è un action RPG davvero molto molto bello a mio parere io non ho ancora sbloccato nessuna abilità perchè mi sto prendendo il tempo adesso sto facendo un po' di livelli giusto per far salire un po' eh... i contribution points che poi possiamo anche andare a vedere come li abbiamo spesi due case e investimenti due per delle case e uno... e 13 per investimento sui nodi eh... questo è quello che voi farete per la maggior parte del tempo eh... per quanto riguarda il livellaggio il trovare oggetti utili il trovare risorse e soprattutto salire di livello quindi poter accedere a zone maggiori poi... eh... ci sono altre attività secondarie veramente interessanti tipo... ci sono anche dei siti che riportano gli orari ad esempio di questo mostro qui adesso vi faccio vedere se riesco questo mostro qui è un world boss andate lì anche se siete di livello bassissimo basta che date un colpo al mostro per quando tutti i personaggi del server lo tirano giù vi prendete e avete la percentuale di trovare degli oggetti e quindi è... è figo il fatto che comunque potete andare vendere e comprare qualsiasi tipo di cosa quello che trovate qui che al momento mi pare vuoto il... perl item tutto quello che è perl item è tutto quello che è stato acquistato con... nel perl shop che sono tutte quelle cose acquistate a soldi veri perché le perle costano soldi veri e... trainer flute molto interessante 109 milioni in questo caso non c'è nessuno che lo vende ma voi potete piazzare un ordine il primo che lo... che lo mette in vendita lo mette in... a voi perl shop è questo che nasconde tutto quello che è il... oggetti di potenziamento personaggio costumi soprattutto su cui puntano tanti coreani i loyalties point invece sono punti che ottenete ogni giorno ne ho già 1.6 ne ho spesi... l'altro giorno 1.5 o 2.000 per avere uno slot personaggio in più ma in realtà ne avevo già abbastanza li ho un po' buttati però questi sono oggetti che voi accumulate solo giocando in pratica accumulate questi punti e per le invece ne comprate le comprate si parte da un... 10 euro 7 euro 50 oggetto a salire e adesso quello che va per la maggiore sono i... i set de... no vabbè ma dark knight non va bene perché io sono un... si no sono un dark knight posso cambiare questo vestito qui però già 2.900 non... 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 non sono pochi ovvio che come dicono in tanti e io condivido il pensiero se... ehm... tu giochi a questo gioco ed è gratuito e ti diverti ti passi le giornate le notti ci giochi da una vita prenditelo un costume che ti piace voglio dire è meglio che ecco e che... diciamo che rispetto ad altri giochi io sono molto tentato anche dal tornare su world of warcraft ma... quello che mi lascia un pochino così è solo quest 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 il crafting mi dicono che non ha granché da dare non è granché utile è bellissimo per il doppiaggio qua ok non ho l'italiano ho tanto grinding ho combattimenti che cambiano radicalmente da una classe all'altra quindi quello che posso consigliare di quello che ho fatto quello che ho fatto anch'io scegliervi più personaggi quindi... e provarli tenete conto solo di una cosa molto importante che i personaggi condividono la stessa... gli stessi punti voglio dire quando voi inizierete un nuovo personaggio se non ricordo male avete gli stessi contribution point gli stessi punti energia gli stessi punti... del vostro altro personaggio quindi... fate attenzione perché... ehm... sono tutti complementari non è ognuno un mondo a sé cioè... condividono perché fanno parte tutti della vostra famiglia quindi... se... fate un personaggio e il vostro personaggio gioca arriva a livello 50 va qui si compra dei nodi e compra delle case sono punti tolti dal massimale anche del vostro personaggio l'altro quindi... dovete considerare questo ehm... poi vabbè... la pesca è soprattutto AFK quindi potete farvi la nave potete farvi... la pesca in alto mare c'è un mare immenso qua davanti con delle... delle isole poi lontanissime cioè... guardate quanto è grande il mondo ehm... quello sì... vabbè... poi il mining come dicevo si incontrano queste cose dove se avete il piccone potete raccogliere e... vi saliranno i livelli adesso scusate ho ancora sbagliato produce si possono produrre vari tipi di... no... si possono processare varie cose dal cucinare semplice pesce il grigliare la carne fino al raffinare dei materiali e l'alchimia è questa polishing ci sono varie cose fino ai tavoli da lavoro che voi vi piazzate in casa e io ho visto tanti giochi che avevano l'housing ma non avevano i tavoli da lavoro in casa ma aveva deluso anche The Elder Scrolls Online perché aveva delle case bellissime ma poi per avere una cassa e depositare degli oggetti in casa ci voleva veramente un oggetto premium perché non era previsto ed è stata una cosa abbastanza scandalosa per me ora cosa sto facendo? ridendo e scherzando io dovevo uccidere 18 di questi tizi 20 di questi tizi scusate ne ho già ucciso 18 adesso finiamo è divertente è rilassante è un po' abbastanza brainless poi dovrebbe essere possibile anche usare la... la musica proprio personale quindi ve la ascoltate e vi giocate il vostro gioco ok ho concluso la missione adesso appena finisco di... vedete qua c'è loot raccolgo non si sa mai vado a evocare il mio omino lo spirit che mi ha dato la missione mi ricompenserà con vedete CP è un tipo di esperienza è dell'esperienza contribution point experience scusate era adesso mi prendo un'altra missione vedete non la leggo adesso chi è che è un pelle palle però adesso basta allontanarsi un po' e non ci rompono più sta veramente diluviando però adesso metti via la spada ok vado a prendere la quest vedete io adesso mi sta... ovvio a leggerla che non è difficile ci sono delle... la lore del gioco che vi spiega quello che succede in questo caso prendo contribution point venti punti esperienza su contribution prendo una... pergamena di aumento amity no... aumenta l'altezza del... del salto e queste invece footstep on the wind sono dei buff che vi restano attivi per 60 minuti poi con lui potete fare tutto quello che si era già visto anche su arcade cioè andare a potenziare i pezzi di armatura a vostro rischio pericolo cioè con lo rischio di eh... danneggiarlo dopo un tot a livello mi pare fino a 5 si possono livellare in questo caso ho fatto l'armatura a più uno ehm... prendendo delle... delle pietre nere insomma poi arrivati a un tot rischiate e anche lì e questa è l'ultima cosa che vi dico una cosa molto bella del gioco è che se non volete vi stressa il fatto di dover rischiare dei pezzi in un gioco che è praticamente un gioco d'azzardo quello che avete una percentuale minima poi rompete il pezzo però la volta dopo avete più percentuali di riuscire però fallite di nuovo perdete una barca di soldi mettetevi via i soldi e vi comprate le armature già pronte perché si possono vendere così come c'è gente che magari va in giro eh... raccoglie cavalli e li vende c'è gente magari che potenzia appunto i pezzi di armatura vendendoli per denaro eh... e quindi anche qui di roba da da fare di attività da fare ce ne sono ovviamente vi ci vorrà un po' di tempo per prendere confidenza con il mondo per prendere confidenza con tutte le mille cose da fare con le mille icone le mille cose scritte che ovviamente dovete sistemare non ho le made vedete che qua mi sta spiegando che ci sono anche queste sorte di casalinga insomma di cameriere eh... ho scoperto che eh... si prendono dal dallo shop o ce le danno delle quest e ci consentono di farlo esponare davanti a noi e accedere subito all'inventario perché l'inventario è diviso è l'ultima l'ultimissima cosa che vi dico è diviso tra un uno storage generale che lì vanno tutte le cose che poi voi venderete e poi c'è il magazzino di ogni città dove le produzioni di ogni città vanno direttamente lì se io adesso apro qua vedete che possiamo andare a vedere eh... poi tutto quello che io ho eh no non ce l'ho qua da vedere purtroppo però in pratica tutto quello che io acquisto se dovrei andare a parlare direttamente con quel gestore dell'asta c'è un magazzino dove io dentro tutti i soldi che ho e delle delle risorse e degli oggetti che vengono comunque condivisi con tutti i personaggi del mio account che fanno ovviamente parte della stessa famiglia questo era un bravissimo video di quello che è ho scoperto e che mi sta piacendo di Black Desert Online ovviamente consideratelo come un non solo indie ovviamente perché il gioco è vabbè che sto... ricevo ogni settimana mail su questo gioco ma non lo reputerei un indie anzi tutt'altro però insomma ve lo faccio a scopo informativo qualora qualcuno della community o più diciamo in modo sommario italiano volesse qualche info fosse indeciso se scegliere il gioco spero di avergli fatto cosa gradita di avergli portato queste piccole informazioni su Black Desert Online che trovate su Steam e spesso spessissimo viene venduto in questo caso i miei saldi natalizi viene venduto a 3 euro prezzaccio assoluto normalmente sui 10 euro fatemi sapere cosa ne pensate e alla prossima e ciao 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 ciao